famiglia cooperativa bassa valsugana da 110 anni una storia fatta di impegno valori e persone 13 punti vendita spazi di incontro e socialità per contribuire allo sviluppo della comunità famiglia cooperativa bassa valsugana perché no al via la campagna anti influenzale più vaccini rispetto al passato anche in valsugana la vaccinazione è volontaria non obbligatoria ma è raccomandata scatterà lunedì 4 novembre la campagna vaccinale in trentino per l'influenza la popolazione sta invecchiando e rispetto al passato sono state aumentate le dosi a disposizione dell'azienda provinciale per i servizi sanitari la vaccinazione è consigliata soprattutto alle persone sopra i 65 anni e ai soggetti a rischio tra i sei mesi e i 65 anni lo scorso anno la campagna anti influenzale ha coinvolto oltre 81 mila persone e la copertura negli ultra 65 anni era stata del 54,8 per cento i servizi vaccinali dei distretti avevano vaccinato 1860 bambini a rischio ed i medici di base hanno somministrato 64.933 dosi di vaccino nonostante le evidenze scientifiche sulla sicurezza del vaccino e nonostante siano note le possibili complicanze legate alla malattia influenzale il numero di donne in gravidanza vaccinate resta ancora molto basso